Allora, una volta, tanto, ma tanto, ma tanto tempo fa, un mio attenato conosciuto come Hellekönig, Arleten, Erlachin, Arlican o più semplicemente Arlequin, che voi potete vedere sul suo chiamco destriero a otto zampe che poteva passare attraverso le chiambe dell'inferno, notare sotto le acque profonde del mar e, per fin, volar alto nel cielo. Alla fine, il diavolo è il Chapa e il mio attenato Arlequin per il colpo. Eh, 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 ho messo impiantato il forno, libera me lupo, libera me lupo che ti dai da mangiar. Dai da uno, chiedi da. Oh, isa! Oh, isa! Oh, isa! Oh, iakabota!